Manca completamente la cultura della sicurezza sul lavoro, ormai si pensa alla corsa, all'occupazione e in nome di questa occupazione e per la paura anche di perdere il lavoro perché oramai il lavoro è molto precario, tutto questo si sta sacrificando rispetto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a pagarne poi le spese ovviamente sono le lavoratrici e i lavoratori. Martedì è stato Tonino ma purtroppo già da martedì ad oggi continua un bollettino tragico in tutta Italia sulle morti sul lavoro e soltanto fino ad oggi i morti sono stati quasi 600, quelli ovviamente denunciati ci teniamo a dirlo, nel 2021 sono stati denunciati quasi 1400 infortuni mortali, io non li chiamo incidenti, sono infortuni perché l'incidente ha un connotato di fatalità di caso, parlando di sicurezza sul lavoro non ci può essere la fatalità perché è necessario capire che i sistemi di sicurezza che bisogna applicare sulle macchine devono proprio salvaguardare quello che può essere l'errore umano, in questo caso riteniamo che la giustizia, nel caso di Tonino e come tutti rispetto a Tonino che è morto nella nostra provincia dentro la metallurgica, riteniamo che la giustizia debba fare velocemente la luce sulle dinamiche dell'incidente, riteniamo però che l'ultima sentenza, per esempio quella di Luana, ci ha detto chiaramente che in quel caso la sicurezza era stata subordinata al profitto, erano state manomesse le fotocellule, ecco io credo che è necessario lavorare tutti insieme, è necessario dare e fare investimenti, investire, aumentare le risorse per i controlli, per i monitoraggi, certamente questa cosa la si può fare solo insieme con le istituzioni, con la politica e con le organizzazioni sindacali, altrimenti purtroppo è un elenco macabro di morte che non terminerà più. Come si fa? Si fa eppure accade, accade come è accaduto a Luana, come è accaduto a tante altre persone in questi anni, come dicevo prima, 911 morti nel 2021, 911 morti sono tre volte la tragedia di Marsinello, nel 2022 stiamo rischiando di superare pure il record, che al primo semestre siamo già 450 vittime sul lavoro, mancano ancora sei mesi, se andiamo avanti di questo passo sarà una mattanza generale, non è più possibile andare avanti in queste condizioni. Noi, come dicevo anche prima, abbiamo presentato un protocollo alla prefettura di Terra Maggiore del 2021 con il CGL Gisluil, mettendo a disposizione anche le categorie con i dati, le statistiche e anche con le priorità da affrontare nel settore del lavoro. È rimasta carta a straccia, la politica non se ne interessa, non si interessa assolutamente, lo vediamo in questa campagna elettorale, che nessuno ne parla, ne continuano soltanto a fare propaganda per altre cose senza, come dicevo prima, tener conto di queste persone che vanno a lavorare pagano le tasse e continuano a morire sul lavoro per un dosso di pane. Bisogna intervenire al più presto, ma non da domani, già da oggi, cominciare ad intervenire seriamente su questa questione. Lo possiamo fare insieme se vogliamo, altrimenti il sindacato andrà per la propria strada e veramente da domani cominceremo a rompere le scatole a tutti e a tutto. La sicurezza non può essere un lusso nel mondo del lavoro, ma deve rappresentare la precondizione per lavorare e riteniamo anche che queste indignazioni di questi giorni, nel momento specifico in cui avviene, deve avere un domani, perché ogni giorno in Italia muorono tre lavoratori, quindi tre famiglie, tre persone, quindi quando muore un lavoratore muore una famiglia e muore un territorio. Purtroppo, purtroppo ai noi, al di là dell'ultimo scatto per almeno rimpinguare i controlli, rimpinguando anche gli ispettori, ma necessita sicuramente una crescita delle coscienze e soprattutto per quello che riguarda la prevenzione, perché una volta che l'evento è avvenuto non possiamo tornare indietro e quindi dobbiamo creare un sistema di coscienza e di prevenzione affinché queste morti e affinché non si può perdere il lavoro per riportare il salario a casa. Grazie